Il numero 8 Alice Cincootto, il numero 9 Umberto Galli, il numero 10 Matteo Leva, il numero 11 Tommaso Minoli, il numero 7 Sofia Frustacci, il numero 8 Angelica Tibè, il numero 9 Valentina Grazia, il numero 10 Jacopo Tomaselli, il numero 11 Massimo Barbisan, il numero 12 Andrea Colombo Bugatti, riceva la rimesse segno Brugatti a segno E' Nasini in accelerazione Bugatti da tre Bugatti 26-24 Monstars La risposta di Petrosino Seguite il nostro blog ufficiale che va di Vindago in blogspot.com Ha fatto un pesco che tra noi di Vindago in modo a 10 secondi 5 E' Nasini ancora in internazione Ricordiamo il percorso delle due squadre per arrivare fino al finale Vindago e i Fusminosca Mocco Buona squadra per i Fusminosca Mocco Buona pala per Zappia Frustacci buona falla di Burratti e Bugatti mette la tripla in base di Beretta e Beretta assegna ancora un recupero dei Fusco però riconsegna la palla ai Monsters che trovano la tripla con Lanzi e arriva anche la tripla di Angelica Tibè Valentina Resemini bella azione la tripla di Lanzi un minuto del terzo quarto e Valentina Resemini realizza tre punti e alle giù canestro e fallo Tomaselli con l'aiuto del ferro Beretta lo scadere segna Beretta la stoppata di alle giù che sale in cielo e poi va a segno Bugatti risponde Minoli in venta Petrosino tripla segno per Minoli che sguscia intervento difensivo di Frustacce evita il canestro e poi sono Quinto fallo per Beretta che esce dalla partita Bugatti due su due ed esce per Timè e si gira, riapre per Frustaci la tripla, Sofia Frustaci Minoni non molla 2 su 2 per Lanzi 10 secondi e finirà così i Mostas dopo 4 anni torneranno sul trono di Binzago campioni del mondo a squadre miste battendo in Fuspinia Scamucula per il secondo anno di fila sconfitti in finale però con grande onore 111 a 100 una grandissima finale